Stiamo per entrare nel bagno di un giorno che è stato impreziosito da questa particolare porta rivestita in carta d'apparati a filo muro. La stessa carta è stata utilizzata per decorare la parte superiore della parete in cui sono stati installati i bici e il mobile lavavo. La carta d'apparati dà un aspetto di continuità all'ambiente proprio perché tutta la parete superiore e la parete della porta d'ingresso sono rivestite con questo tema floreale che non è particolarmente colorato ma dà quel tocco di calore all'ambiente. Come potete vedere la spina di questo rovere molto particolare entra in tutti gli ambienti dell'abitazione compreso il bagno per salire infine nella prima parte di parete e andare a creare una sorta di boiserie e fare da fondo. Quindi la continuità di materiali è proprio la parola d'ordine di questo progetto. Questa forma è minimale quindi ci sono pochi accessori e ben curati. Abbiamo scelto un sanitario in ceramica bianca opaca proprio per dare eleganza all'ambiente. Un lavabo a colonna con questa struttura in metallo laccata nera così come la finitura della rubinetteria sempre laccata opaca nera e la placca nera. In modo da creare il contrasto chiaro scuro ma con delle finiture opache e moderne.